Buongiorno a tutti dalla foresta di Zafarana. Oggi siamo alla ricerca di Rulu Ituddu, una grossissima quercia che cade nel comprensorio di Santa Venera del Bosco. L'abbiamo cercato, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Buongiorno Carlo. Carlo. Uno spettacolo della natura. Uno spettacolo della foresta di Zafarana. Pare che sia il più grande, insieme a un altro. Insieme a Rulu Ituddu, però ci hanno detto che Rulu Ituddu è inaccessibile, perché rigate in una zona particolarmente... Guardate che spettacolo. E da stamattina che camminiamo, le bici ovviamente sono su. Ora raggiungeremo la dorsale dei Nebrodi. Ok. Carlo. Dei Beloridani. Dei Beloridani, scusate. L'altro giorno eravamo sui Nebrodi. Chi sei Carlo? Eccomi. Perfetto. Ciao. Ciao ciao a tutti. Dal Rulu Ituddu. Dal Rulu Ituddu.